Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatigli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Ciao, sono Emanuela Fatigli e sono una podcaster. Il mio podcast si chiama Disabilità e Benessere e lo puoi ascoltare tutti i giovedì sera alle 21 sulla web radio Senza Barcode. Puoi raggiungere il sito della web radio direttamente dal link da www.senzabarcode.it. Senza Barcode è un'associazione culturale che fa informazione H24. Non ti preoccupare se perdi un mio podcast un giovedì perché a rotazione la radio ti propone sempre. Ogni settimana poi viene pubblicato anche un articolo mio relativo al podcast che ti permetterà così di riflettere o di riascoltare il podcast per capire meglio alcune problematiche. È tanto tempo che collaboro con la web radio per cui ci sono tanti podcast miei che puoi ascoltare. E ti accorgerai che ho trattato un po' tanti argomenti, da informazioni utili e quindi strategie efficaci da utilizzare con i nostri ragazzi fragili o con disabilità, a incontri e interviste con persone che lavorano nel terzo settore o che gestiscono associazioni e che hanno permesso anche nel periodo di pandemia di garantire servizi e di aiutare i nostri ragazzi ad affrontare l'estate con molta dignità. Inoltre ultimamente sto affrontando il tema dei disability studies, gli studi della disabilità affrontati da attivisti disabili che oggi più che mai attraverso i canali social e web ma anche nei canali mainstream stanno facendo sentire la loro voce. I disability studies hanno alzato il livello del discorso non solo mantenendo sul deficit e sulla disabilità e quindi come una cosa di una parte della società e basta, ma come un problema sociale. Hanno portato il problema della disabilità all'onore delle cronache raccontando le opportunità e le risorse che in esse sono nascoste. Grazie alla voce dei disability studies, quindi dell'Università di Roma 3 e di tante altre università inclusive, oggi possiamo avere un'idea più sociale della disabilità e soprattutto possiamo capire che viviamo in una società multifattoriale, multicolorata, per cui le diversità possono essere viste sempre come una risorsa. Il problema della disabilità quindi non rimane solo legata alla persona, alla famiglia o al deficit, ma è un argomento che deve essere trattato in tutti i campi e sotto tutte le forme. Io me ne occupo attraverso un podcast, che quindi non è più un podcast settoriale, ma è un podcast anche culturale e quindi va ascoltato ed eventualmente approfondito con altri temi. Vi rinnovo quindi l'invito ad ascoltare ogni giovedì il mio podcast Disabilità e benessere e di seguire comunque la web radio senza barcode perché potete continuamente ascoltare i miei podcast e sul sito leggere gli articoli. Ricordatevi, i diritti degli esseri umani sono identici per tutti. Buon ascolto!